Scappano i ragazzi da sotto le gabbie, si aprono le stesse partiti, cavalli della quinta corsa La prima è in un weather di questa giornata, vediamo un po' l'aspetto tattico Diamond Angel parte bene, parte bene Thunderflesh, poi lascia a strada L'altro che coglie una buona partenza e partecipa al primo parziale, Zio Giancarlo con la giuba blu e cap giallo Con la giuba rossa e gialla invece troviamo il peso alto, Izama, all'interno c'è Fonte Branda con la giuba bianca e rossa Poi per corsia esterna e l'altro con la giuba blu scura è Humming Bee che si trascina poi a gonfie vele Ed in coda troviamo Klimt Foundation che lascia in coda Eyes of Stars Si procede in questo ordine con Diamond Angel che sta portando a spasso l'allegra compagnia senza forzare particolarmente la mano In questa fase della corsa non si stanno dannando l'anima, tant'è che Zio Giancarlo preme subito i suoi fianchi In terza corsia c'è subito Thunderflesh, in quarta Humming Bee subito sostenuto Invece Fonte Branda disegna una parabola arcuata all'interno sfruttando la corda E poi ancora troviamo Izama alle spalle dei primi, Klimt Foundation a gonfie vele sostenute Eyes of Stars a completare il quadro, siamo in retta d'arrivo Subito Diamond Angel comincia ad ingranare la marcia successiva ed accelera Nonostante la pressione costante da parte di Zio Giancarlo che si è posizionato ai suoi fianchi e non lo molla In terza posizione all'esterno ci prova Humming Bee, di dentro Izam, ancora più all'interno la figura di Eyes of Stars Gli altri che sono abbastanza lontani, i cavalli che sono adesso a 250 al traguardo Diamond Angel che prova a dare un'altra scossa alla corsa Zio Giancarlo prova di nuovo all'esterno, Eyes of Stars ci prova di dentro Ma ormai è tutto fatto con il tratto conclusivo in gestione completa da parte di Dario Vargiù Che con questa vittoria ottiene la centesima affermazione in questo 2024 Raggiunta l'ennesima centuria per il veterano di Oristano In sella al cavallo più in forma forse della stagione estiva E cioè Diamond Angel presentato da Melania Cascione per i colori di Maria Agata Salamone Quattro al primo posto, quota in discesa, 2.50 Per Diamond Angel vittoria numero quattro in carriera Si tratta da un figlio di Cracksman, cost to cost servito senza mai guardarsi alle spalle Steady pace e poi in continuo allungo per Diamond Angel Che ha avuto anche il vantaggio tattico di gestirla come gli è parso e piaciuto Secondo posto l'idea è quella che riguarda Zio Giancarlo E poi Eyes of Stars per il terzo Ma chiaramente ci rimettiamo al verdetto del giudice d'arrivo Che è imperante da questo punto di vista 2.50 Diamond Angel da Capannelle Per la quinta a tutti Per la quinta a tutti